buona giornata prendo un pensiero da papa francesco dalla moris letizia che dice sostanzialmente colui che non si decide di amare per sempre difficilmente ama sinceramente un solo giorno è proprio vero è proprio vero questa dedizione di questo dare amare per sempre che alla fine lo si traduce nei singoli giorni non sono i singoli giorni sostanzialmente che costruiscono certo lo sono anche però è la modalità con cui hai questa dedizione hai questo stile hai questa intenzione hai questo senso della vita che ti fa gustare i singoli giorni allora alimentiamo questo amare per sempre forse ognuno l'ha nelle realtà in cui vive casa famiglia associazioni movimenti amicizie professioni ecco questa dedizione totale che alla fine si tradurrà in sorprese ma anche in novità ma anche nello stesso tempo in quel senso che forse tutti oggi noi cerchiamo ed è vero che se non è l'impegno di ogni giorno alla fine risulterà essere il rimpianto di una vita il signore ti illumina e ti benedica buona giornata